La scelta di diventare ricercatore è stata una scelta naturale. Io sin da piccolo, sin da ragazzo avevo molta curiosità nel mondo, molta curiosità di capire di cosa siamo fatti e del perché siamo fatti in un certo modo. A queste domande uno di solito cerca risposte magari guardando fuori, nell'universo, guardando ciò che c'è sopra di noi, io invece sono sempre stato interessato a capire cosa c'è dentro di noi, cosa c'è nelle nostre cellule, cosa fa sì che noi siamo quello che siamo. Il mio progetto di ricerca, grazie ad AIRC, può concentrarsi sul comprendere alcune molecole non codificanti che sono presenti nelle nostre cellule. Questi geni, in particolar modo piccoli, si chiamano microRNA e hanno la capacità, benché siano piccoli, di controllare la funzione e l'attività di tanti altri geni. Il mio progetto di ricerca si occupa di capire come questi microRNA possono essere regolati da meccanismi che ancora non conosciamo. Per me la ricerca sul cancro è comunque qualcosa che è utile a tutti, perché il cancro comunque ci spaventa, rappresenta un problema, un problema che dobbiamo risolvere. AIRC è una realtà bellissima fatta di tante persone, rappresenta molto bene la ricerca, perché la ricerca che facciamo noi ricercatori è proprio questo, collaborare, essere tutti un'unità, una famiglia con un unico obiettivo, lavorare per il futuro, lavorare per una speranza che è quella di sconfiggere il cancro grazie alla ricerca. Fortunatamente fuori dal laboratorio riusciamo anche ad avere una vita, una vita fatta di momenti con amici, con familiari, con parenti, ma fatta anche di momenti di svago. Per me la vita fuori dal laboratorio è fondamentalmente uno svago che può essere fatto di un cinema, di un film, di una cena con gli amici, ma soprattutto nel mio caso di sport. Faccio tantissimi sport da solo, in compagnia, perché come ho sempre detto io sono curioso, quindi voglio capire tante cose e ogni sport mi insegna qualcosa. Lo sport e la ricerca hanno molte cose in comune, sono fatti di sacrifici, sono fatti di resistenza, di resilienza, della capacità di non fermarsi di fronte ad una difficoltà, ma valorizzarla e andare avanti. Sono fatti anche di momenti di condivisione. Io ho fatto tante maratone, ho corso con tante persone e la cosa più bella che ricordo di quei momenti era la condivisione della fatica. Non eri da solo a fare una corsa, ma eri con altri e il fatto che tutti stessero correndo insieme verso un obiettivo ti dava la forza di non cedere. E così anche nella ricerca. Siamo tanti ricercatori, non è ciascuno di noi da solo contro questa sfida, ma tutti insieme sentiamo il coraggio che viene dagli altri per andare avanti.